Poracci bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi in live action. Quello di oggi sarà un episodio ricchissimo, lo sto rimandando praticamente da una settimana e ogni giorno che passa si aggiungono nuove cose di cui discutere. Oggi cercherò di trattare gli argomenti più caldi, ma aspettatevi nei prossimi giorni un altro TG Poro in cui faremo il punto della situazione su tutti gli argomenti che ci siamo lasciati indietro. Prima di iniziare vi ricordo che se volete supportare il mio lavoro sapete cosa fare, datemi gli sordi! Oppure semplicemente prendete parte alla conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso iscrivendovi al canale. Dai che i 40.000 iscritti sono dietro l'angolo. Bene, vi ho detto tutto, iniziamo! Come al solito iniziamo dall'angolo della poracciata. Vi ricordo che sull'Epic Game Store avete tempo fino a domani per riscattare il divertentissimo Zelda-like Turnip Boy, dopodiché verrà sostituito da Golden Light, titolo che è la prima volta che sento nominare. Qualcuno di voi lo conosce? Dallo scorso martedì è possibile riscattare i titoli del PlayStation Plus Essential, Mafia 2, non dovete assolutamente farvelo sfuggire e se vi avanza un po' di tempo magari date un'occhiata anche a Dragon Ball The Breakers. Non è il mio genere preferito, anzi proprio non fa per me, ma di fronte a Dragon Ball come si fa a dire di no? Come? Da domani invece sarà disponibile sul Game Pass il nuovo Like a Dragon o Yakuza. The Man Who Erased His Name è una sorta di intermezzo tra il sesto e l'ottavo capitolo e nonostante si tratti di una sorta di episodio aggiuntivo molto più contenuto rispetto alla mole degli Yakuza principali, il titolo è stato comunque accolto molto calorosamente dalla critica. E mentre stiamo aspettando di capire se Nintendo proporrà qualche iniziativa per il Black Friday anche qui in Europa, vi ricordo che la settimana scorsa si sono aggiunti a sorpresa al catalogo retro gaming del pacchetto base del Nintendo Switch Online tre titoli pazzeschi. Per Game Boy abbiamo Castlevania Legends, uno dei capitoli meno apprezzati della serie, ma così tanto che a un certo punto Koji Igarashi ha deciso di renderlo non canon. Poraccio. Per Nels invece due vere chicche, il seguito spirituale del primo Zelda, ovvero The Mysterious Murasame Castle, un gioco di cui vi ho parlato anche recentemente, e poi c'è Devil World. Lo sapevate che questo clonazzo di Pac-Man è il primo titolo diretto da Miyamoto a non essere stato pensato per gli arcade, ma direttamente sul console? Si tratta di un vero e proprio pezzo di storia, da provare assolutamente. Siamo a un passo dall'arrivo di Hogwarts Legacy su Switch, il cui porting è previsto per il prossimo 14 novembre, ma alcuni utenti sono riusciti già a entrare in possesso di una copia. Pur non potendo scaricare i dati di gioco, è comunque possibile avviare il titolo e provare la porzione iniziale dell'avventura. Ora, purtroppo i video di gameplay sono stati tirati tutti quanti giù dal publisher, quindi io non posso mostrarvi nulla, ma da quello che ho intravisto e dallo stesso feedback degli utenti, potremmo trovarci di fronte a un nuovo porting impossibile su Switch. Il gameplay sembrava restituire una conversione tutto sommata degna e funzionale. C'è anche da dire però che i video erano registrati da cellulare con la Switch in portabilità, quindi non è che si capisse proprio bene la qualità del tutto. Il mio consiglio è comunque sempre quello di aspettare le prime recensioni ed evitare di preordinare il titolo, però per ora i primi riscontri sono abbastanza positivi. E voi lo proverete Hogwarts Legacy su Switch? Ora però devo diventare un attimo serio per parlare di una notizia tutt'altro che allegra. Solitamente non parlo dei grandi stravolgimenti che scuotono l'industria, un po' perché non penso di avere le competenze per farlo, un po' perché il TG Poro non mi sembra mai il luogo adatto per affrontare i discorsi del genere. Ma questo purtroppo non cambia la realtà dei fatti. In un anno dove realtà gigantesche vengono acquisite da realtà ancora più gigantesche, con acquisti di entità smisurata, tantissimi studi di sviluppo stanno invece affrontando una crisi nera. E in continuo sentiamo di report a dir poco tragici. Nelle ultime settimane centinaia di persone hanno perso da un momento all'altro il loro posto di lavoro. Bungie è in crisi, Epic Games è in crisi, Ubisoft è in crisi e potrei andare avanti con i nomi per un bel po'. Vi invito a visitare il sito videogameslayoff per capire quanti dipendenti, non certo manager, si sono ritrovati per strada nell'ultimo periodo. E ci tengo a esprimere per quanto possa valere la mia massima solidarietà a chi è costretto ad affrontare una situazione così difficile. In particolar modo poi mi tocca da vicino la notizia che molto probabilmente, in seguito alla perdita di un affare di 2 miliardi di dollari, Embracer Group, nel tentativo di riorganizzare la sua struttura, abbia deciso di staccare la spina anche a Free Radical. E per me questa è proprio una notizia tristissima. Lo studio, un nome storico dei primi anni 2000, era stato rimesso in piedi due anni fa dopo anni di chiusura, con l'obiettivo di riportare in vita la saga di Time Splitters. Ed ora il futuro di una delle migliori IP FPS multiplayer di sempre è di nuovo appesa a un filo. Questa è anche la dimostrazione che le mega acquisizioni sono sempre un'arma a doppio taglio. Se da una parte portano con sé tanto capitale da investire in nuovi progetti, dall'altra si tratta di contesti dove chiunque diventa sacrificabile, molto spesso poi per mettere delle pezze agli errori altrui. Un vero peccato, speriamo per il meglio per i Free Radical e tutti gli altri team che in questi giorni non se la stanno passando bene. Ma passiamo alle notizie del giorno con una vera e propria mina, arrivata questa notte. Nintendo ha confermato l'esistenza di un film di The Legend of Zelda, ed ecco tutto quello che sappiamo. La notizia è arrivata tramite uno di quei comunicati su Twitter dal tono un po' assurdo, che iniziano con This is Miyamoto, un incipit che ormai sappiamo essere garanzia di qualità. Il papà di Mario e Zelda ha fatto sapere che Nintendo ha avviato la produzione di un live action dedicato alla serie di The Legend of Zelda. Il film sarà coprodotto da Nintendo, rappresentata da Miyamoto, e Avi Arad. Questo è già il primo punto di discussione. Arad, o Arad, una figura attiva sin dall'inizio degli anni 2000, ha prodotto alcuni film apprezzatissimi, come ad esempio i recenti Spider-Verse, ma ha anche contribuito a vere e proprie monnezze come i Venom o anche Morbius. Nintendo ovviamente avrà un ruolo primario in questa produzione, finanziando più del 50% della pellicola, i cui restanti costi verranno coperti da un'altra azienda, che farà anche da distributore, che udite udite è Sony Pictures Entertainment. Certo, non stiamo parlando della divisione PlayStation, ma fa comunque impressione vedere questi due colossi, fianco a fianco, uniti dalla saga di The Legend of Zelda. Infine, l'ultima informazione che abbiamo è che il film sarà diretto da Wes Ball, regista famoso per aver diretto la trilogia di Maze Runner e il Regno del Pianeta delle Scimmie, che uscirà fra poco nel 2024. Io lo dico, così sulla carta non è che si tratti di un curriculum proprio entusiasmante. E poi, soprattutto, se andiamo a vedere lo storico di Nintendo con i live action, non è che si parte proprio col piede giusto. Ma quanto fatto con il film di Mario fa ben sperare, e sono sicuro che se Miyamoto, ormai lontanissimo purtroppo dal mondo dei videogiochi, ha finalmente dato il via libera a questo progetto in gestazione da anni, è perché Nintendo e Shigeru hanno le idee ben chiare sulla direzione che deve seguire il film. E soprattutto non dimentichiamoci che, così come il film di Mario ha influenzato il panorama videoludico dell'idraulico italiano, così anche un film su The Legend of Zelda avrà di sicuro un impatto sui videogiochi di questa storica serie. Comunque non ci resta che attendere le prime informazioni, magari provenienti proprio dal set, ma non trattenete il respiro. A quanto pare siamo ancora lontani, molto lontani, dall'uscita di questo live action. Se ne parlerà, secondo me, non prima del 2025. Però intanto ditemi, che ne pensate di un live action su Zelda? Io potrei tollerarlo solo come apripista a uno spin-off su Beningol, no? E ora parliamo dei soldi. Non dei miei, non dei vostri, ma di quelli di Nintendo. Sono stati appena pubblicati i risultati del secondo quarto dell'anno finanziario in corso, che analizzeremo accorpandoli a quelli del primo quarto, ragionando così sulla prima metà di quest'anno fiscale, che va da marzo 2023 fino a settembre 2023. Incredibile ma vero, rispetto allo scorso anno, le vendite di Switch sono aumentate del 2,4%, con ben 6,68 milioni di unità vendute nell'arco di sei mesi. In questo modo le vendite di Switch superano i 130 milioni di unità e siamo ora arrivati a quota 132,46 milioni di unità complessive. Un numero che, per quanto impressionante, è ancora lontano dagli oltre 150 milioni di Nintendo DS. Ad essere veramente folle, però, è il numero di software venduti su questa console. Si tratta della prima piattaforma Nintendo ad aver superato ampiamente il miliardo di giochi venduti. Comunque, quest'anno, a svettare è stato il modello OLED, ed è chiaro che la spinta maggiore si è arrivata dai titoli pubblicati. In particolare, Tears of the Kingdom, che arriva con la sua OLED dedicata, ha raggiunto i 19,5 milioni di unità, a cui si aggiungono altri 3,22 per Mario Kart, un titolo praticamente immortale, un altro milione e 350 mila unità per Smash, ma soprattutto 2,61 milioni per Pikmin 4, che in un colpo solo è diventato il titolo più venduto di sempre di questa serie che, forse, d'ora in avanti, non dovremo più considerare di nicchia. Io comunque rimango a bocca aperta quando leggo Super Mario Party a quasi 20 milioni di copie vendute, Mario Party Superstars a oltre i 11, e quella monnezza, e cioè quella grande occasione sprecata di Switch Sports che è riuscita a superare i 10 milioni di unità complessive. Sono numeri completamente folli. Nei prossimi giorni scenderemo ancora più nel dettaglio su questi dati di vendita perché la dicono lunga sulle strategie di Nintendo e sul futuro di Switch. Però intanto dai, ditemi, secondo voi, Switch riuscirà a battere i 150 milioni di Nintendo DS? E chiudiamo poracci con un annuncio dell'ultima ora, il primo trailer di gameplay di GTA 6, o meglio, l'annuncio del primo trailer di GTA 6. Circa un anno fa Rockstar era stata costretta a svelare l'esistenza di GTA 6 a causa di un pesante leak che aveva reso pubblici molti asset del gioco ancora in fase di sviluppo. Da quel momento, però, eravamo ricaduti in un silenzio tombale, almeno per quanto riguarda le comunicazioni ufficiali. Stanotte, però, qualcosa si è sbloccato. Prima con un report esclusivo di Schreier e Bloomberg, dove, secondo il giornalista, Rockstar avrebbe presto rotto il silenzio sul nuovo capitolo di GTA con l'annuncio di un trailer imminente. E poi oggi, Sam Hauser, cofondatore di Rockstar, ha ufficializzato la notizia. Il prossimo mese, in occasione del 25esimo anniversario della compagnia, verrà condiviso il primo trailer del nuovo Grand Theft Auto. Visto che Hauser indica la data con un generico inizio dicembre, è molto probabile che i TGA diventino il palco di presentazione di GTA 6. In caso, si tratterebbe dell'ennesimo colpaccio per Jeff Keighley. Comunque, non sottovalutate la pubblicazione di questo trailer, si tratta di un evento epocale. Volete sentirvi vecchi? GTA 5 è stato pubblicato più di dieci anni fa, il 17 settembre 2013. Insomma, se siamo pronti a mandare in pensione GTA 5, forse anche Mario Kart 8 Deluxe, prima o poi, no? E questo però c'era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, che arriverà quando arriverà, ma probabilmente molto presto. Voi, comunque, per stare sicuri, nel frattempo fate i bravi, riposatevi dormendo Sonic tranquilli, ma soprattutto snerdate duro. Io sono il Porofilm, Michele Tzelda, ciao! Ehi, 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 fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Porion, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale, e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM